Il meteo è offerto da La tua agenzia di viaggi Il Tuareg Tour Operator Tutto un altro mondo da godere Benvenuti al meteo di Filrugio TV Vediamo le previsioni di mercoledì 12 agosto Un campo di alte pressioni Abbraccia tutta l'isola Garantendo tempo stabile e assolato ovunque Nello specifico sul litorale tirrenico E sull'Appennino Cieli inizialmente poco nuvolosi Ma con nuvolosità nelle ore centrali della giornata E deboli piogge Rasserene in serata Sul litorale ionico, litorale meridionale E zone interne Cieli in prevalenza sereni O poco nuvolosi per l'intera giornata Venti deboli e in attenuazione Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia calmi Adesso vediamo le temperature Palermo 28-34 Trapani 25-30 Agrigento 26-32 Enna 26-31 Caltanissetta 25-30 Ragusa 25-30 Siracusa 28-30 Catania 27-34 Messina 26-31 Grazie Grazie e appuntamento al meteo di domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.